Quindi adesso chiamo Gianluca, che è l'ultima tavola rotonda, bellissimo, grazie Fede, grazie per aver portato l'alla, come si chiama noi abitualmente, perché mi ha emozionato, bravo, bravo, complimenti. L'emozione è un sentimento bellissimo, tanti si ne provano vergogna, ma invece no, è bellissimo constatare che i sentimenti sopra avanzano la razionalità, sopra avanzano l'esteriorità, il fatto di mantenersi belli, bravi, sempre presenti a noi stessi, l'emotività ci porta fuori, ci dà una forza che forse non abbiamo. L'ultima tavola rotonda è un universo alla ricerca di un ordine, un universo complesso come ci ha descritto ora Laura Bellandi, dicendo che è molto difficile mettere ordine a un universo complesso. E' proprio per mettere in ordine un universo complesso con creatività, con differenza, mi ha ricordato il pensiero laterale di Eduard De Bono. Chiamo qui subito i relatori dell'ultimo intervento, Azzurra Marchesano, Marcio Prividori, Fabio, prego, accomodatevi. Nico, dov'è Nico? Rocchi che non lo vedo, qui. Vitelli, ciao, non ci siamo ancora salutati, guarda. Ciao Fabio, Azzurra. Ah, ci sei? Ecco, senti, non ti sei nascosto. Benissimo. Dovevi fare lo stesso, è lo stesso. Allora, signori, prestate attenzione e divertitevi, perché questa è una tavola rotonda complessa. Io con questi soggetti qui ci vorrei andare a cena. A cena, a cena proprio per provocarli, perché noterete, ora vi racconterò qualcosa di loro. Ci hanno tutte esperienze complesse e particolari, che è inutile stare a parlare qui esclusivamente di confini. Proprio una sera a cena davanti a una buona bottiglia di vino sarebbe molto più interessante fare questa conversazione. Ci state? Vi invito tutti, siate ufficialmente invitati. Ci siete? Allora, collegare, mettere in relazione, non categorizzare. Le ultime parole di Laura sono state significative. Prima di ripartire, un ultimo aspetto. Non sono assolutamente d'accordo sulla tavola rotonda precedente, dove Simone, ma poi anche Veronica e Goretti di Banca d'Italia hanno detto che l'intelligenza artificiale è una rivoluzione. Ma perché la ruota cos'era? Ma perché il telefono cos'era? Ma internet cos'era? Ma le mail? Ma vi siete dimenticati prima la raccomandata con ricevuta di ritorno? Non era rivoluzione? Ora sembra normale, ma quando è arrivata internet, ma tu ce l'hai Eudora? Vi ricordate cos'era Eudora? Qualcuno che ha la mia età se ne ricorda. E sembrava che tutto è rivoluzione. No, è rivoluzione perché non ci abbiamo pensato prima. Ma poi dopo, tra un anno, due, non si parlerà più di intelligenza artificiale, perché sarà una cosa normale, sarà un software che è entrato dentro di noi. E poi Capecchi ha dato un aspetto umanistico al dato, che non è più un dato, è l'informazione. Ma l'informazione, la spiegazione dell'informazione, io che vengo proprio da quel mondo, l'ha data un sociologo americano, Gregory Bateson, che ha detto negli anni 60, mi pare, che l'informazione è un cambiamento che genera un cambiamento. Cambiamento che genera un cambiamento. Se uno mi dà l'informazione che la strada che sto per fare, il nostro Google Maps, mi dice che c'è un incidente, mi fa cambiare, mi dà un cambiamento che mi genera il cambiamento che io cambio strada. E oggi siamo bombardati di informazione. Quindi, inutile mettere ordine perché noi stiamo soggetti a cambiamenti continui. In questi cambiamenti continui, cerchiamo di capire i confidi dove vanno. E per capire dove vanno i confidi, qui abbiamo un fuoco incrociato a tutti i soggetti diversi, che a diverso titolo hanno a che fare con i confidi. Azzurra Marchesano. Azzurra, avvocato, dirigente del Mimit, anzi, dirige un'unità organizzativa della divisione, accesso al credito di incentivi fiscali. Azzurra, diciamo, è una delle nostre accompagnatrici fisse perché è quella che nel Mimit conosce meglio i confidi. E quindi, da questa conoscenza, io vorrei capire, avete l'istabilità del 2014, diciamo così, ha avuto degli effetti sui confidi che stanno finendo. E ora, qual è la strategia del Mimit? Il Mimit, cioè il Ministero delle Imprese, Made in Italy, come vede i confidi? Come vede lo sviluppo futuro? Ecco, cerchiamo di mettere ordine, ma senza mettere ordine, proprio cerchiamo di collegare, sempre su, come diceva Laura Bellandi, mettere in relazione senza categorizzare. Prego, Azzurra. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Questa, diciamo, io vengo a Confires da un po' di anni, i primi anni, diciamo, come me era spettatrice. Devo dire che questi due giorni, secondo me, sono molto utili, perché, diciamo, mettere in qualche modo in relazione tutti gli attori di un sistema, diciamo, genera sempre valore come amministrazione, come rappresentante di un'amministrazione. Mi è molto utile, perché, diciamo, capisco come magari, diciamo, l'impatto, diciamo, di una regolamentazione, delle norme, procedure amministrative, su poi, diciamo, come impattano sugli operatori, diciamo. Quindi, sicuramente, per me, è un'occasione di confronto importante. Venendo al tema, diciamo, questi interventi, diciamo, noi come amministrazione abbiamo, diciamo, cominciato ad operare con i confidi nella qualità, diciamo, di gestori di risorse pubbliche a partire dal 2017 circa, è cominciata l'operatività. Quindi, diciamo, il primo sportello previsto dal decreto 3 gennaio 2017 prevedeva un periodo di gestione per i confidi, diciamo, di sette anni, che, diciamo, per la maggior parte dei confidi, diciamo, è in scadenza. E quindi, sicuramente, l'amministrazione ha, diciamo, dispone di un patrimonio informativo sull'attuazione di questa misura che ci consente, in qualche maniera, di fare qualche valutazione. Sia a voi come sistema dei confidi, sia a noi come amministrazione, chiaramente, anche nell'ottica di, diciamo, poter anche rivalutare una riedizione di questo intervento, o comunque di interventi analoghi. Partirei da quelli che erano gli obiettivi di policy. Allora, gli obiettivi di policy di questo intervento si snodavano su due direttrici. La prima era, ovviamente, quella più scontata, rivolta, diciamo, alle imprese target, quindi favorire l'accesso al credito delle PMI professionisti. Però, dall'altro lato, c'era anche, diciamo, una volontà di agire sul sistema dei confidi. In che modo? Favorendo, diciamo, delle aggregazioni. Anche ieri, diciamo, è stato toccato diverse volte il tema, diciamo, delle aggregazioni dei confidi, anche proprio in prospettiva di un futuro. E dobbiamo dire che già allora, diciamo, proprio dalla lettera della norma, vediamo che questi interventi erano rivolti alla crescita dimensionale e rafforzamento patrimoniale dei confidi. Come, diciamo, veniva attuato questo obiettivo di policy? Prevedendo, dai criteri di accesso al contributo, l'aver effettuato operazioni di fusione, all'epoca, ai fini dell'iscrizione all'albo 106, ma non solo. Prevedeva anche, diciamo, sempre ai fini dell'accesso al contributo, la costituzione di strutture di reti, volte al miglioramento dell'efficienza gestionale dei confidi, che, diciamo, in qualche maniera l'amministrazione richiedeva che fossero mantenute queste strutture di reti nel tempo, appena direvoca, diciamo, del contributo concesso. Allora, su questo fronte, quali sono stati, diciamo, gli impatti di questo intervento? Noi abbiamo fatto due sportelli, uno nel 2017 e poi successivamente nel 2021 entrambi avevano questo obiettivo di policy tra gli altri. Allora, per quanto riguarda, diciamo, il DM del 2017, abbiamo in qualche maniera promosso la costituzione di due operazioni di fusione, ma soprattutto di 16 strutture di reti, maggiormente al centro-nord, un po' meno al sud. Sicuramente non tutte le strutture di reti hanno avuto, diciamo, gli effetti sperati, però, diciamo, nei casi più virtuosi, anche queste strutture di reti, diciamo, hanno comunque, diciamo, favorito, diciamo, delle aggregazioni più stabili e ci risulta, infatti, quantomeno per i dati in possesso dell'amministrazione, che tra i confidi gestori in questi sette anni sono intervenute diverse operazioni di fusione, sia all'interno delle reti, ma anche, diciamo, sostanzialmente al di fuori, circa 16 operazioni di fusione in sette anni per quanto riguarda i confidi gestori. Quindi questo è un primo obiettivo. Per il DM 2021, invece, abbiamo favorito, diciamo, sette operazioni di fusione per un totale di contributo assegnato per questa fattispecie pari a circa 25 milioni, mentre per il 2017 erano stati circa 54 milioni assegnati per queste fattispecie. Quindi questo è un primo, diciamo, come dire, obiettivo raggiunto da questo intervento. Per quanto riguarda, questo non è un obiettivo di polisi, però io, diciamo, ci tenevo sostanzialmente a valorizzare questo aspetto perché secondo me un altro, diciamo, come dire, risultato di questo intervento è stato l'acquisizione di know-how da parte dei confidi perché io credo che non tutti i confidi avessero avuto precedentemente esperienze di gestione di risorse pubbliche. La gestione di risorse pubbliche comporta necessariamente una conoscenza, una conoscenza che riguarda banalmente l'applicazione di principi pubblicistici, tecnicismo sugli aiuti di Stato, diciamo, come gestire rapporti con un'amministrazione, come rendi contare i costi, cioè non credo che... Cioè alcuni confidi sicuramente avevano avuto precedenti esperienze, ma altri invece no. Quindi io immagino che sicuramente questo... Tra l'altro credo che sia anche bidirezionale, cioè nel senso che nella mia esperienza personale come responsabile di questo intervento, anche io mi sono arricchita di competenze, quindi diciamo in questo, come dire, in questa relazione un po' bidirezionale tra amministrazione, confidi, ma anche associazioni, perché devo dire che io credo che le associazioni di categoria, almeno nella mia esperienza, hanno avuto comunque, diciamo, un ruolo di confronto, diciamo, di portatrici di stanze, quindi comunque diciamo hanno un ruolo importante e quindi credo che l'acquisizione di questo know-how abbia generato in generale valore, valore per il sistema, il fatto che comunque ci sono operatori più qualificati adesso e credo che i confidi, anche nell'ipotesi in cui non dovessero continuare, diciamo, con questo intervento per varie ragioni che magari vedremo poi successivamente, credo che potranno anche spendere l'esperienza acquisita per fare service, per fare consulenza alle imprese, eventualmente per partecipare a bandi, diciamo, banditi, non so, Stato, Regioni, quindi comunque immagino che questo aspetto non sia, insomma, da sottovalutare. Per quanto riguarda invece poi, diciamo, l'aspetto più scontato, diciamo, il vincolo di scopo di questo intervento era quello di promuovere l'accesso al credito delle PMI. Lo fa con due, diciamo, strumenti, quello della garanzia agevolata e quello del, diciamo, più recentemente l'esperienza, quella, diciamo, del credito diretto. Vediamo un po' quelli che sono stati i numeri per quanto riguarda, diciamo, la promozione dell'accesso al credito delle PMI. Allora, i confidi, diciamo, attivi da questo punto di vista sono 61 su 99. L'importo totale garantito è pari a circa 965 milioni per un numero di interventi di garanzia circa pari a 17 mila interventi. Il numero di imprese raggiunte da questo intervento è pari a circa 9 mila. Vediamo che l'importo garantito medio si attesta sui 54 mila euro, quindi, diciamo, è il target che il Ministero si aspettava, diciamo, per questo intervento. Invece, secondo me, una cosa da sottolineare è come sta andando, diciamo, il credito diretto, perché, secondo me, diciamo, è cominciato operativamente nel 2023. Da 2023 al 2024, secondo me, per ora sono solo 13 confidi su 99, però mi sembra che l'importo finanziato di 41 milioni sia un bel, diciamo, risultato e speriamo, anche in vista di un'eventuale riedizione o proroga di questo intervento, che questo strumento possa essere, insomma, utile ai nostri fini. Grazie, Azzurra. Grazie, grazie, precisissima. Però io che sono toscano, quindi per natura mia contro sempre, ma siamo sicuri che passi tutto attraverso fusioni e acquisizioni? Non che io sia contrario pregiudizialmente, ma è l'unico sistema. Io, per esempio, vedo Banca d'Alba, che c'era qui ieri sera, sta aprendo filiali a dismisura, in controtendenza con il sistema e Banca d'Alba fa un pacco di soldi d'utile, detto in termini proprio strettamente tecnici, no? E fa anche un sacco di operazioni, cioè i dipendenti di Banca d'Alba sono trattati, come si dice in Toscana, da signori. Quindi, ma che ci sia anche un pensiero laterale, qualche cosa che abbiamo trascurato e che abbiamo preso magari una scorciatoia? Valida, però sempre proprio. È una domanda che mi ero posto. Corrado Vitelli. Corrado Vitelli è un dirigente dei GDP, Cassa Depositi e Prestiti, responsabile di relazioni business, istituzioni finanziarie e territoriali. Cassa Depositi e Prestiti è proprio una bestia strana. È un ente pubblico, è una banca, già questo è del Ministero del Tesoro e, fra l'altro, per i confidi dà plafond e quindi li utilizza come rete quasi commerciale perché dà un plafond per il credito diretto, ma d'altra parte riceve le garanzie dei confidi e quindi si comporta come una banca. Ecco, ha questa doppia intensità, questa complessità del rapporto per contribuire alla complessità di cui si parlava prima, anche intermediario del fondo centrale di garanzia con il mercato. Ecco, qual è il posizionamento strategico? Che intenzione ha il GDP? Come vuole sviluppare il rapporto con i confidi? Che pensa? Perché dal mio punto di vista, che esamino spettatore esterno della cosa, ma che succederà? Com'è? Allora, intanto, buongiorno a tutti, molto contenti di essere qui. Non è la prima volta che partecipiamo a Confies. Per noi è un'occasione di grande utilità per testare l'efficacia, l'utilità degli strumenti che mettiamo in campo e che diamo anche a disposizione del sistema dei confidi. Quindi, certamente un'occasione di grande utilità e di interesse per capire anche quali sono i margini di miglioramento di questa collaborazione. Per definire il GDP, effettivamente concordo con te, è una strano animale, istituto nazionale di promozione si dice. Effettivamente mi sembra una definizione pertinente perché, almeno in questo ambito, certamente in questo ambito, il GDP non si configura come soggetto speculativo. Ha messo in campo una serie di azioni nel tempo consolidate che credo abbiano avuto un impatto significativo anche sull'operatività dei confidi. Due parole e due concetti spesso inflazionati, che sembrano un po' vuoti, sinergia e complementarietà. Il GDP, nella sua modalità di intervento, non intercetta le piccole e medie imprese. Intercetta imprese con un taglio dimensionale grande, superiore a 50 milioni di euro di fatturato e quindi per noi è fondamentale operare in sinergia con istituzioni finanziarie, anche banche del territorio e soprattutto confidi, per intercettare quel segmento che è decisivo evidentemente delle piccole e medie imprese. I confidi ovviamente sono soggetto privilegiato da questo punto di vista perché hanno una prossimità territoriale, il polso di quello che effettivamente è l'esigenza di queste controparti. Noi come istituto nazionale di promozione, vengo alla domanda, abbiamo messo in campo una serie di azioni. Intanto, sempre riferendoci alla simmetria, alla complementarietà, abbiamo consolidato un rapporto storico col fondo centrale, col fondo di garanzia. Ieri è intervenuto Pierpaolo Brunozzi, ha raccontato quelle che sono le novità del principale strumento agevolativo nazionale. Noi con il fondo abbiamo consolidato un'operatività che ha consentito di attrarre in primo luogo risorse europee su strumenti di controgaranzia, veicolando risorse europee per importi estremamente significativi. Parliamo di ben oltre un miliardo, un miliardo 350 fino all'operazione, la più grande che è stata chiusa l'ultima operazione con l'European Guarantee Fund e che ha consentito di attivare garanzie per oltre 16 miliardi. Questo quindi è un merito ovviamente del fondo di garanzia, di MCC nostro per l'impegno profuso, anche dei confidi che hanno contribuito sottoscrivendo una modulistica che si era dovuto specializzare, a volte un po' astrusa, però ecco questo secondo noi è un primo punto diciamo lusinghiero perché ci ha consentito di attrarre risorse comunitarie che altrimenti sarebbero andate altrove e magari il MEF avrebbe dovuto attingere alla fiscalità generale, quindi insomma parlare di risorse dell'ordine di grandezza a cui mi sono riferito non è banale. Lo strumento che forse più interessa ai confidi dal punto di vista operativo è il nostro profondi liquidità, 500 milioni messi a disposizione a fine 2020, ad oggi abbiamo già erogato circa 220 milioni, quindi una quota molto rilevante dei finanziamenti diretti in termini di funding chiaramente per i confidi, è uno strumento in evoluzione, è uno strumento anche questo che valorizza il fondo centrale perché noi valorizziamo la presenza della garanzia del fondo centrale, introduciamo un meccanismo di pegno e questo ci consente di valutare la controparte con un rischio che è assimilabile a un rischio Stato e fornire quindi condizioni particolarmente competitive, il fatto che ad oggi su 32 confidi vigilati 22 siano operativi che nei primi 5 mesi di maggio, a maggio di quest'anno già 15 confidi abbiano fatto utilizzo della nostra provvisa solo quest'anno, insomma ci sembra che lo strumento è certamente utile, interessante, è uno strumento che prevede la copertura del fondo di garanzia e che può agire anche in un periodo in cui la copertura del fondo ha avuto delle riduzioni attraverso meccanismi che abbiamo introdotto per migliorarlo, uno è quello della possibilità di introdurre la figura di un confidi di garante che attraverso un sistema di controgaranzia e riassicurazione possa consentire il raggiungimento di quei livelli di copertura necessari per attingere la nostra risorsa, quindi strumento in evoluzione, utilissimo il confronto con voi e utilissimo verificare insieme quali sono gli elementi per migliorare anche attraverso una serie di addendum che nel tempo ci sono stati, uno di questi aveva consentito anche di incrementare gli spazi di operatività valorizzando i fondi pubblici che sono a bilancio dei confidi, quindi insomma senza entrare nei tecnicismi è uno strumento che aiuta i confidi a posizionarsi sul finanziamento diretto che è strategico, è fondamentale e estremamente utile. È partito l'anno scorso il nostro fundraising con l'apertura di sottosezioni, la dottoressa Marchesano sa che anche su questo ci sarà una novità breve, è una cosa già abbastanza nota che consentirà da una parte di ottimizzare l'impiego delle risorse e dall'altra di incrementare l'effetto leva, quindi introducendo un valore cappato sui finanziamenti garantibili, questa è una novità che a breve sarà resa nota e già nota a molti di voi. I confidi sono stati pionieri, abbiamo attivato già quattro sottosezioni, l'abbiamo fatto anche con le casse previdenziali, quindi c'è anche una possibilità sinergica di operatività e crediamo molto in questo strumento, l'effetto leva al 31-12 dell'anno scorso è stato ben oltre le nostre aspettative, nel senso che abbiamo raggiunto anche un valore superiore al 60%. In ultima battuta, visto che abbiamo poco tempo, ma insomma abbiamo strumenti anche di garanzia regionali che hanno valorizzato anche l'expertise consulenziale nell'ambito della gestione di fondi pubblici da parte dei confidi, l'abbiamo fatto in Emilia-Romagna, è un'iniziativa che possiamo replicare anche in altre regioni, anche su questo molto utile un confronto e siamo apertissimi a discutere con i confidi, con le regioni e le finanzie regionali per capire quali sono i margini di intervento. Ottimo, grazie, grazie Corrado, grazie. Bello, ma al di là di quello che hanno detto questi due relatori, tecnicismi, aspettative, fa l'attenzione che ha il Ministero Cassa Depositi e Prestiti per i confidi. Ma vi rendete conto voi i confidi, quanto siete importanti, quanto siete guardati? Cioè, una persona esiste in quanto è riconosciuta, in quanto è guardata, in quanto è vista dagli altri. Ecco, istituzioni di questo tipo vi vedono, vi considerano, vi vedono come partner. Siete proprio importanti. Andiamo avanti. Fabio Bianchini, bellissimo, bellissimo, complimenti. Allora, Fabio, brillantissimo laureato in Bocconi, ha fatto tutto un excursus particolare attraverso il panorama bancario e finanziario italiano. Allora, ha lavorato in BNP Paribas, Bedio Bank, GE Capital, Interbank, Amco, mettendo in piedi sempre iniziative particolarissime. Amco, l'UTP, il settore UTP, se l'hai creato, il TIP Corporate te l'hai creato tu. Poi è entrato nel gruppo Illimiti, come Head of UTP Management. Sono detto bene, l'ho detto? Perfetto. Grazie. Grazie. Ecco, ora è responsabile Chief Lending Officer e deve guidare il processo di digitalizzazione dell'area finalizzato al rafforzamento della qualità del credito e del rischio. In quest'ottica ha messo in piedi un rapporto con i confidi che è particolarissimo. Ecco, ce lo vuoi raccontare? È un'innovazione particolare, anche questo testimonia l'attenzione di tanti operatori che sono vicini al mondo dei confidi ma non ne fanno parte. Fabio. Una sola precisazione, laureato Università degli Studi di Milano, specializzazione poi in da Bocconi, che sennò la mia università mi uccide, sono uno dei primi della Bicocca quindi insomma ci... Ah ecco, ci tenevi, scusa. No, 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 mancherebbe. Allora, sì, guarda, non mi potevi fare una domanda più bella, perché prima parlavi di emozioni, quindi magari abbandono un attimo la giacca bancaria, qua si può fare, mi sono un po' triste, un po' contrita diciamo per natura, perché del progetto che abbiamo portato avanti con Crescitalia e Green Confidi siamo proprio fieri, siamo fieri veramente dal punto di vista emotivo, perché veniamo spesso percepirci come un intermediario unico, mentre in realtà all'interno di questo progetto ci sono ben cinque soggetti diversi, ci siamo noi, Bilti, in questo momento io sono responsabile dell'area Bilti che è la banca digitale per le piccole e medie imprese del gruppo Illimiti, c'è Crescitalia che è una piattaforma finta e altamente voluta, che mette in relazione da una parte investitori finanziatori e dall'altra parte confidi e soggetti che invece sono prenditori dei finanziamenti e ci sono tre confidi che sono Confiresc, Confeserfidi, Confidi Cop Marche e Garanzia Etica e chiunque diciamo abbia un po' baziegato questo settore mettere cinque soggetti insieme di cui tre sono pure cugini non è una cosa assolutamente facile. Assolutamente no, complimenti. Però se si volesse riassumere la forza di questo progetto forse in una frase è che insieme siamo un po' più forti, un po' tanto più forti, perché siamo riusciti a mettere insieme le forze e le leve di ognuno di questi soggetti per rendere e sfruttare al massimo la forza combinata di tutti e tre. Noi siamo una banca digitale con sede a Milano, quindi abbiamo una buona capacità di strutturazione, di ingegneria finanziaria, di sviluppo di motore del credito, tecnologia, intelligenza artificiale, ci teniamo tanto. Però questo non basta perché le piccole e medie imprese non le finanzi stando seduti in via Soperga 9 a Milano, le finanzi se sei vicino al territorio e allora ecco la rilevanza dei confidi che ci portano sull'ultimo miglio, ci portano dove serve quella presenza territoriale, quella conoscenza dell'impresa ed ecco l'importanza della piattaforma Crescitalia che riesce a far ruotare tutti questi soggetti portatori in parte di interessi diversi perché adesso ve la racconto così e siamo contentissimi di quello che abbiamo fatto ma nasce da un confronto e un confronto è anche tante volte dialettica per riuscire a trovare una soluzione che funzioni per tutti quanti. Nell'ambito di un corpus normativo che è sicuramente un corpus normativo estremamente complesso ed in continua evoluzione. Riprendo qualche spunto da quello che era stato detto ieri nei tavoli rotonde che ci sono state interessantissime. Se prendiamo le principali forze che stanno un po' ridisegnando il sistema del credito ad ampio spettro ed è un sistema del credito che deve in qualche modo riuscire a servire circa un milione di micro e piccole imprese che a loro volta danno da mangiare a circa 10 milioni di famiglie. Sono numeri un po' arrotondati, non prendetele come statistiche precisissime. Noi abbiamo da una parte la desertificazione bancaria, ci sono le principali banche italiane un po' per i progetti di fusione, acquisizione e via di seguito, stanno diminuendo il numero delle filiali presenti sul territorio. Questo vuol dire che c'è un numero crescente di imprese e di famiglie che non hanno più il rapporto diretto o la vicinanza fisica con la filiale bancaria. Le scelte di finanziamento delle aziende, in misura minore anche delle famiglie, ma delle aziende sicuramente sono scelte finanziarie complesse. Il finanziamento non è la risposta a tutto quanto. C'è il finanziamento, ci sono il mio supporto del working capital, l'elasticità di cassa, bisogna capire sempre qual è il bisogno e qual è lo strumento finanziario adatto. All'università, la bicocca, Saita ci insegnava che la finanza deve essere ancillare a qualche cosa, deve servire a qualche cosa. Se la finanza serve se stessa, tendenzialmente vengono fuori dei disastri, tipo quelli del 2008, che più o meno ci ricordiamo tutti quanti. Abbiamo una difficoltà delle grandi banche ad affiancare le piccole imprese, che non è solo relativa alla desertificazione bancaria, quindi alla riduzione delle filiali, ma è anche legata in modo stretto alla complessità della normativa, anche di EBA e BCE, che regola i sistemi delle banche. Tra tutti, vi cito un esempio, se qualcuno soffre di insonnia o vuole annoiarsi tantissimo, ci sono le long guidelines, che sono bellissime se non le va a vedere. Approccio forward looking alla valutazione del merito creditizio, continuous monitoring del rapporto, early warning, fattorizzazione in termini quantitativi dei modelli dell'ISG. Addirittura non bisogna andare a fattorizzare in modo quantitativo nel modello di cash flow prospettico solamente le modifiche nella normativa, che già è una cosa complicatissima, ma tutto sommato uno ci potrebbe provare. No, ti dice anche che devi fattorizzare le probabili mutate abitudini di consumo degli acquirenti finali. E lì ti voglio vedere come fai a fattorizzare in un modello quantitativo le aspettative di mutazione di quelle che sono le abitudini di consumo. L'ISG, che è un altro fattore importantissimo in termini di sostenibilità e che non solo è un obbligo e non solo è etica, come abbiamo detto nel panel di ieri, ma è anche un'opportunità importantissima per le aziende, perché a breve termine le aziende che non saranno in qualche modo compliant con l'ISG e con la sostenibilità saranno non solo infinanziabili e quindi sarà difficilissimo per loro avere accesso al credito, ma saranno anche molto meno competitive da un punto di vista commerciale. Faccio un esempio banalissimo. Pensate a una lavanderia industriale inquinante e una lavanderia industriale che invece è certificata e non inquina. La grossa catena alberghiera che al suo interno come proprietà ha dei grossi fondi di private equity. A chi si rivolgerà? Al 100% si rivolgerà alla lavanderia industriale che in qualche modo è certificata ed è compliant e fa del suo meglio per non inquinare. E poi abbiamo la transizione digitale, che è un altro elemento importantissimo e che è imprescindibile, perché le micro e piccole imprese italiane, quelle che sono un po' la clientela elettiva dei confidi e anche nostra in builty, sono imprese che hanno dato già una dimostrazione incredibile non solo di resilienza ma direi anche di antifragilità. E sono però imprese che per continuare a prosperare sono condannate ad investire. Perché l'Italia è un paese che è povero di materie prime ed è evoluto, progredito per quanto riguarda la normativa del lavoro. Pertanto tendenzialmente le variabili competitive di un'azienda sono due. O fai una battaglia di prezzo o ti situi su una qualità molto alta e ti fai pagare un premium price. La prima per noi non è percorribile, perché i cinesi ci uccidono, ci uccide qualsiasi paese che abbia un costo della manodobra bassa e materie prime a basso costo. Ieri abbiamo lungamente parlato di che cosa è auspicabile come sviluppo della normativa di riferimento. E ci sono molti filoni di pensiero. Qualcuno ha detto che i confidi dovrebbero erogare più finanziamenti. Giustamente si è detto sì, però se i confidi si trasformano in banche, attenzione che poi la Banca d'Italia comincia a mettere dei vincoli, dei ratio patrimoniali che sono un pochino diversi. Poi si è parlato della tempistica per la riforma, ad esempio, del fondo centrale, che non sarà brevissima. Ecco, in tutto questo, io sono 25 anni circa, che faccio sempre credito alle piccole e medie imprese, quindi mi ritengo un po' una tuta blu del credito. Noi abbiamo provato con Crescitalia e abbiamo provato con i confidi che hanno aderito a questo progetto a cercare, come diceva prima la dottoressa Bellandi, di danzare nella complessità. In qualche modo di trovare una strada, magari non la migliore, sicuramente perfettibile, per erogare e per supportare le piccole e medie imprese. Siamo partiti circa 12 mesi fa, con la fase attuativa del progetto. Abbiamo ad oggi erogato circa 150 milioni di finanziamenti a queste imprese, tra l'altro con una qualità del credito, lo dico incrociando le dita da ex-clo, che per adesso è di buonissimo livello. Abbiamo circa 200 milioni, 250 milioni di nuovi progetti a cui stiamo lavorando, quindi un grande viaggio, un passettino alla volta, nel nostro caso un finanziamento alla volta. Grazie, grazie, grazie Fabio. È bello questo punto di vista della seconda banca non banca, diciamo così, che vede il settore dei confidi. Hai detto una cosa carina che mi ha colpito, mi sembra quasi una barzelletta, la finanza ancillare. No, no, è bello questo fatto qui, anche se dico, il tuo professore si è dimenticato di dirti che non ha citato la fonte, perché finanza che doveva essere ancillare è un'espressione scolpita nella roccia da Adriano Olivetti. Quindi è Adriano Olivetti che era convinto da industriale che la finanza doveva essere ancillare a un'attività produttiva come i confidi in realtà lo sono. Ma andiamo avanti con le banche non banche perché io mi sto divertendo, mi sto a questo punto. Marcio Pividori. Marcio Pividori è l'amministratore delegato, direttore generale, si intende di Aidexa. Aidexa è un po' un bocconiano, lui è lavorato ovvero un bocconi, dovino stavolta, no? Poi ha fatto il master negli Stati Uniti, ha lavorato negli Stati Uniti, poi ha fatto la carriera da bancario in Deutsche Bank fino a diventare responsabile del retail bank per tutta Italia. E poi si è passato con Nicastro e si è diventato amministratore delegato di Aidexa. Aidexa è una banca che questa secondo me non banca, cioè una banca che non ha sportelli, è una banca completamente digitale, è una delle, penso la prima banca, correggimi se sbaglio, che ha utilizzato, ha sfruttato la PSD2 per accedere ai conti correnti dei clienti e farne così uno strumento di valutazione. Quindi diciamo così siete una banca anomala, dal mio punto di vista si intende. Avete fatto della tecnologia la vostra cifra, no? E utilizzando come rete commerciale parti terze e soprattutto i confidi. E com'è andata? Come sono stati fino ad oggi i risultati? Cioè in termini concreti che abbiamo fatto? Che si fa? Grazie, 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 potete accendere? Potete accendere? Sì, questo spiglio sopra, ecco. Tecnologia ma non sono gli altri. No, è azzurra, è colpa mia. È colpa tua, perché secondo me era azzurra che da brava risparmiatrice, aveva spento, diceva un utilizzo che hanno utilizzato. Grazie mille dell'invito, è una due giorni molto interessante, è molto vivace, è veramente piacevole. Per me è la prima volta, sono molto contento di essere qui con voi. Due parole, come è andata? Allora, secondo me c'è una naturale comunione di interessi e complementarietà fra i DEXA e i confidi, che è figlia delle seguenti cose. Il mercato target è lo stesso, noi abbiamo il nostro cliente medio, ha meno di due milioni di fatturato, ha fidi sul sistema per 500 mila euro e ha dieci dipendenti. Quindi diciamo, prima cosa è... 98% delle imprese italiane. Sì, quindi diciamo, seconda cosa è un mercato grandissimo. Terza cosa, non lo voglio dire troppo, l'ha detto il collega, è un mercato ogni giorno servito peggio dalle banche tradizionali, che non è che lo fanno male, ma è evidente che non è in cima alle loro priorità. Probabilmente altri obiettivi. Io vengo dal mondo degli sportelli retail e dal mondo del credito al consumo e ho visto come in altri segmenti del retail la specializzazione degli operatori ha fatto sì che, cito un caso nel credito al consumo, un presto personale su due è fatto da tre operatori, che sono tre player specializzati e gli sportelli bancari di quei tre operatori insommano meno del 15% della quota. Quindi vuol dire che quando la tecnologia arriva in campo, la standardizzazione, il digitale, la specializzazione paga e fa sì che possano prendere quota operatori specializzati. Perché non è mai successo nello small business o nelle piccole aziende? L'hai detto tu, nelle piccole aziende la cosa più importante nella valutazione del merito creditizio è sostanzialmente ricostruire il cash flow dell'azienda. Fino a pre-PSD2 o avevi il conto corrente, magari anche da dieci anni, magari quello più movimentato, oppure l'accesso a queste informazioni non poteva esserci. Con la PSD2 ci abbiamo messo tutti un po' di tempo a standardizzare le informazioni, a valutarle al meglio, ma questa barriera è caduta e quindi noi e i confidi abbiamo questa tremenda opportunità, più opportunità che complessità, di andare a prenderci quote di mercato che le banche tradizionali fino ad oggi hanno mantenuto perché erano le uniche detentrici di informazioni core sul merito creditizio del cliente. I confidi in generale le stazioni di categoria l'hanno capito subito. Abbiamo dall'inizio anime diverse di confcommercio, confartigianato nel nostro capitale, abbiamo più confidi che sono nostri soci e quindi è stato tutto molto naturale. Cosa facciamo con i confidi? Facciamo sostanzialmente due cose. Noi siamo fabbrica prodotto per i confidi, quando Fabio Petri diceva ieri che bisogna aumentare il credito diretto, io mi spingo un po' di più. Secondo me i confidi devono, mi permetto di dire, impossessarsi in modo diretto della relazione col cliente. Quindi Aidexa in questo contesto è una fabbrica prodotto, come ce ne possono essere altre, e il confidi che gestisce il cliente sceglie la consulenza, i prodotti di impiego, le assicurazioni e quant'altro che meglio vanno per il cliente in oggetto. Cosa abbiamo fatto in termini di volumi? Abbiamo raggiunto 200 milioni quasi di prestiti e a fronte di questi 200 milioni di prestiti come si deve fare con un ottimo partner distributivo? Siamo ben felici di riconoscere anche provisioni importanti che in qualche caso lasciano anche un segno nel conto economico dei confidi. Siamo molto contenti della qualità creditizia dei confidi e le cose funzionano a meraviglia. Lavoriamo con 20 confidi, progressivamente stiamo cercando di espandere la relazione. La seconda cosa che facciamo con i confidi è in un mondo di garanzie pubbliche in discesa. Noi riteniamo che per chi vuole fare credito alle piccole imprese bisogna, diciamo, essere un po' aguzzare l'ingegno e trovare formule di garanzia nuove o miste. Pensiamo quindi che i confidi per noi diventeranno anche prestatori di garanzia integrata magari alle pubbliche importanti e come seconda cosa quando abbiamo da altri canali un cliente che gode di una garanzia non ottimale, in virtù di tutte le cose che stanno succedendo stiamo diventando anche portatori di clienti ai confidi che vanno con la loro garanzia a integrare le garanzie per il cliente e quindi ad aumentare la possibilità di avere accesso al credito per i clienti stessi. Quest'anno per dare una cifra un terzo dei volumi che facciamo con i confidi è generato da noi, quindi i confidi si integra. Esatto, quindi diciamo è una naturale complementarietà in un mercato che è grandissimo e che ogni giorno lascia aperte nuove porte. Quindi secondo me non è più che danzare sulla complessità, mi ricollego, non aver paura da riaccelerare perché il mercato non può che essere dei confidi che se lo vogliono prendere. Bello, d'accordo, grazie. Grazie Marcio. Grazie. Altro contributo di come qualcuno, partner, fornitore, cliente dei confidi, vede i confidi, istituzioni, banche di tipo diverso, non banche tradizionali che ormai conosciamo da anni. Ora, siccome ci separa l'ultimo relatore dell'ultimo giorno è sempre quello, diciamo così, un pochino più negletto, perché le persone sono stanche, eccetera, io invece faccio una sorpresa perché vi porto un personaggio, Nico Gronchi, che dovrebbe parlare del rapporto col confidi-impresa. E' portato proprio lui perché lui è contemporaneamente il confidi e l'impresa. Vi spiego meglio. Nico Gronchi è presidente di Italia Confidi da anni, ma è anche vicepresidente regionale di Confesercenti, è vicepresidente nazionale con delega al credito sempre di Confesercenti, quindi conosce bene il settore delle imprese, ma ancora di più è un brillantissimo imprenditore, ha i 17 punti di vendita, mi pare, in ambito calzature. Quindi lui sa perfettamente com'è il rapporto confidi-impresa e come le imprese vedono i confidi, anzi non so a volte come fa a dormire la mattina, se si alza col piede sinistro è un confidi, se si alza col piede destro, diciamo così è un'impresa. Adesso una crisi di identità, meno male abbiamo una psicologa, quindi ti puoi sempre rivolgere con esattezza. Allora, dal tuo punto di vista, qual è il futuro dei confidi nel rapporto con l'impresa? Come lo vedi questo confidi? Tu che hai proprio questa esperienza duplice, il confidi nasce come dall'associazione dei categoria di cui tu sei esponente, favorisce il credito alla piccola e media impresa e tu sei una piccola, fra virgolette, e media impresa, ma le banche hanno detto la loro e mi sembra con una bella attenzione al mondo dei confidi, tu come la vedi? Intanto grazie, sono fortunato da questo punto di vista perché riesco ad approcciare anche riflessioni come queste due giorni con una doppia chiave di lettura. Ho la giacca un po' strappata e a volte perché effettivamente ogni tanto mi trovo in situazioni in cui devo anche io dirigere un po' il traffico. Detto questo, io credo che il futuro dei confidi sia forse mai, come in questo momento della storia, definito e nitido e ce lo racconta quello che abbiamo alle spalle, perché abbiamo alle spalle intanto norme che risalgono ormai a 21 anni fa, quindi non siamo più per usare le immagini che ieri avete usato, un adolescente o un bambino, siamo un mondo, un universo che sta cercando di fare l'adulto, ogni tanto ci distraiamo e torniamo a fare gli adolescenti, ma insomma diciamo un po' di mondo l'abbiamo visto in questi anni e abbiamo ricevuto e questo credo sia importante dircelo, troppi messaggi contrastanti nel corso degli anni. Prima i confidi andavano di moda, all'epoca del forte investimento che il pubblico ha fatto sui confidi, assumendo la mutualità che ci contraddistingue come elemento fondante, abbiamo fatto un percorso in cui c'era sostanzialmente l'assistenza di risorse pubbliche, grandi strumenti a disposizione e quegli anni sono gli anni che hanno permesso per esempio ai tali confidi di passare da un confidi regionale ottimo, veloce, brillante ad acquisire tre confidi del centro nord per poi diventare oggi un soggetto di carattere nazionale. Sono gli anni delle garanzie per capirci, poi sono arrivati gli anni in cui le garanzie andavano un po' meno di moda e si è cominciato a avere a meno disposizione anche risorse pubbliche, vedi camera di commercio, vedi ovviamente lo Stato, vedi per citare le regioni anche se ancora qualcosa c'è e lì abbiamo dovuto cominciare un po' a reinventarci e non con tanta semplicità, ma abbiamo mostrato grande resistenza, qualcuno si è un po' distratto in quegli anni, ci siamo fatti affascinare dalla finanza, quindi abbiamo cominciato a fare i bilanci con la finanza allontanandoci un po' dalla nostra missione di vicinanza alle imprese, ma tutti questi elementi abbinati ad una profonda trasformazione che ha interessato il mondo bancario e non solo, anche dagli shock economici degli ultimi anni, perché dal 2008 in poi, piccoli e grandi shock finanziari e lo stress test continuo al quale siamo sottoporsi da quattro anni, beh insomma qualcosa ci hanno dato come messaggio. Una cosa sul mondo bancario però non bistrattiamolo, ci sono banche e non banche, tutto quello che vogliamo, però il mondo bancario ha sostenuto in questi anni, ovviamente non è che devo fare nessun endorsement a un mondo che conosciamo bene. Non è per bistrattare il mondo bancario, assolutamente, il mondo bancario è il tradizionale, quello che si appoggia, ma questo mondo bancario si affacciano come vedi. Voglio citarlo infatti in maniera positiva, non in maniera negativa, perché il mondo bancario ha sostenuto in questi anni un sistema di imprese che ha sofferto moltissimo, ma anche fatto in modo e lasciato succedere che un sistema di affiancamento alle tradizionali operazioni bancarie nascesse. Lo ha permesso la vigilanza, lo ha permesso soprattutto il mercato e tanto per dare qualche riferimento anche di numerico, secondo me particolarmente rilevante, insomma per riprendere quello che dicevate, l'osservatorio della identificazione bancaria indica che il 42% dei comuni italiani non ha uno sportello bancario in questo momento. 15 anni fa c'erano circa 630 banche in Italia, siamo a poco più di 400 in questo momento e potrei continuare a sciolinare una serie di numeri che raccontano come il player banca, in particolar modo le grandi banche nazionali, abbiano cambiato una dimensione e non per scelta propria o perché sono buone e cattive, ma il mercato e in particolar modo il mondo della piccola e media impresa ha cambiato il tipo di domanda e qui veniamo a noi e provo a rispondere alla domanda che facevi. Il futuro lo abbiamo scritto chiaro se siamo capaci di leggere quello che è accaduto e torniamo a fare un mestiere che era il nostro, cioè rispolveriamo con chiarezza la mutualità per la quale siamo nati, però con occhi e strumenti nuovi e ritorniamo alla vera prossimità. La vera prossimità la si fa con il digitale, con la vicinanza fisica, quindi anche parlando con le imprese perché quando siamo stati chiusi nei nostri uffici non abbiamo fatto dei grandi capolavori e tornando cioè a mettere in campo una cassetta degli attrezzi che oggi con gli attori che anche in questo panel sono qui sopra possiamo mettere in campo in maniera molto efficace per tornare, lo dico davvero con una battuta, con una prossimità 2.0 al fianco delle imprese di questo paese perché oggi più di prima abbiamo a disposizione la possibilità di fare funding attraverso GDP e non solo, abbiamo la possibilità di utilizzare strumenti digitali profondamente efficaci per erogare risorse alle imprese, abbiamo la possibilità cioè di mettere in campo una serie di strumenti che un confidi fortemente radicato sul territorio può diventare, può essere il motore vero di trasmissione delle scelte anche che il governo ha fatto in questi anni, cito fra tutte un altro messaggio distonico che ci è arrivato, il ruolo del fondo centrale di garanzia, prima del Covid sembrava uno sconosciuto poi è diventato l'elemento centrale delle politiche pubbliche, qualcuno nemmeno lo conosceva prima fino a capire poi che tutta garanzia pubblica forse è complesso e siamo in una nuova vita, una nuova visione del mondo della garanzia privata, è evidente che nel mix di questi elementi sta la visione e il futuro dei confidi, a condizione ripeto e chiudo con questo rispondendo alla tua domanda di tornare a fare una prossimità nuova di visione 2.0 l'ho chiamata. Ottimo, grazie, grazie Nico anche perché è una prospettiva che a livello personale condivido, rapidamente Azzurra torno a te, tu hai parlato della legge di stabilità del 2014 che va esaurendosi ma già se ne sta formando, sta nascendo una nuova, sta nascendo senza naturalmente fare insider trading, ci puoi raccontare qualcosa delle aspettative di quello che sarà, di cosa si pensa di fare. Allora sicuramente come dicevo prima questi primi sette anni sono in scadenza e l'amministrazione come quasi ormai tutti sanno sta valutando una possibile redizione, una proroga diciamo anche e soprattutto selettiva diciamo di questa gestione. Allora diciamo qui forse sarà un po' impopolare perché dobbiamo comunque diciamo credo dirci le cose come stanno. Io partirei diciamo da un primo elemento che è la capacità di utilizzo di queste risorse. Diciamo i fatti ci dicono che ad oggi il 40% dei confidi non ha utilizzato queste risorse o comunque le ha utilizzate in maniera diciamo non sufficiente. Inferiore diciamo all'aspettativa. È chiaro che oggi diciamo in un generale momento in cui le risorse pubbliche sono scarse lo possiamo dire noi dobbiamo comunque concentrare le risorse pubbliche rispetto a strumenti che ci garantiscono un effetto perché l'amministrazione deve fare comunque l'interesse pubblico che è quello di agevolare le imprese quindi sicuramente noi abbiamo un'attenzione per i confidi però deve essere cioè i confidi sono per noi uno strumento per arrivare alle imprese quindi non può essere diciamo un'attenzione fine a se stessa questo sicuramente. Quindi diciamo che secondo me ovviamente l'amministrazione non ha gli elementi la conoscenza del mondo dei confidi tale da poter comprendere come mai è stato fatto bene ma è stato fatto bene da pochi sicuramente immagino che diciamo la concorrenza della garanzia pubblica del fondo centrale di garanzia può essere un elemento altri elementi potrebbero essere magari che alcuni confidi di dimensioni più piccole hanno minore capacità negoziale hanno minore credibilità diciamo con le banche quindi comunque il prodotto è stato più difficile collocarlo sul mercato anche se devo dire che molti confidi minori hanno fatto bene non è una questione di discriminazione tra vigilato e minore assolutamente no però comunque diciamo nello stabilire una possibile proroga di queste risorse secondo me uno degli elementi uno dei criteri che l'amministrazione dovrà valutare è quello appunto diciamo della leva finanziaria cioè valutare diciamo ai sette anni alla scadenza dei sette anni il confidi che cosa è stato capace di fare con queste risorse secondo me diciamo e immagino che non è possibile proroga ci sarà anche come dire un monitoraggio a cadenza periodica cioè mentre diciamo in questi sette anni abbiamo aspettato il settimo anno per capire secondo me è anche il caso proprio diciamo nel discorso di valutarlo certo sistematicamente poi un altro elemento che secondo me di cui però dovrebbero tener conto forse più il sistema dei confidi che sono interessati alla proroga che l'amministrazione è la questione del costo di questa gestione perché alla fine questo è stata una forma un po' ibrida di gestione da parte dei confidi in assenza di corrispettivo perché perché alla fine non c'è normalmente l'affidamento di un servizio presuppone una gara in questo caso diciamo è stato diciamo data la possibilità a tutti i confidi che allora erano più o meno tutti i confidi che erano presenti sul mercato di diciamo accedere a queste risorse pubbliche però chiaramente c'erano delle condizioni da rispettare quindi assenza di corrispettivo e per evitare diciamo la presenza di un elemento d'aiuto in capo all'intermediario anche la commissione europea con cui era stato attivato un contraddittorio ci ha richiesto che ad esempio nel caso delle garanzie diciamo il confidi possa applicare una commissione che deve coprire solo i costi di gestione nello stesso modo anche per quanto riguarda il credito diretto abbiamo c'è il confidi sicuramente può farsi pagare il rischio sulla quota insomma diciamo di risorse erogate con risorse proprie però c'è una commissione diciamo di accopertura dei costi di gestione che oggettivamente è basta può essere perfettibile potremmo anche provarci però secondo me il tema dell'efficienza di gestione soprattutto per assicurare un effettivo elemento d'aiuto perché c'è capitato non sempre di vedere comunque diciamo operazioni con essere veramente bassi cioè non ha senso perché comunque diciamo lo strumento deve agevolare le imprese quindi questo secondo me diciamo è un discorso che dovrebbe far pensare anche diciamo al singolo confidi se vale la pena o meno chiedere la proroga anche perché gli oneri di gestione ci sono diventano sempre maggiori recentemente voglio citare è stato adottato un decreto direttoriale nel 3 aprile 2024 dove sono state diciamo definite regolamentate le modalità per tutto l'aspetto patologico diciamo delle operazioni ogni volta che il confidi liquida una perdita a valere sul fondo pubblico oppure diciamo appunto c'è un inadempimento nel caso di credito diretto il confidi deve recuperare le risorse e quindi anche legato all'aspetto patologico è tutta una questione perché l'amministrazione ragiona per rendicontazione analitica perché proprio per com'è diciamo è fatta l'amministrazione non può proprio prescindere quindi sicuramente anche questo c'è costi di relazione costi di spiegare all'amministrazione perché ha scelto di fare relazioni di recupero o meno rappresenta un costo quindi secondo me il tema dell'efficienza gestionale la scelta di soluzioni digitali che consentano di ridurre i costi e per il resto fondamentale. Altro messaggio trasversale diciamo così che proviene da un soggetto che proprio non ha interesse quindi è ben chiaro. Bene grazie Azzurra. Grazie Corrado. Molto rapidamente ci hai parlato prima di un bel po' di iniziative messe in campo da CDP cioè cassa depositi e prestiti in collaborazione con i confidi ma i risultati di questa collaborazione? Sì molto rapidamente senza tediarvi allora partiamo dal fundraising a cui prima accennavo al 31 12 del 2023 abbiamo verificato che quello strumento su cui i quattro confidi pionieri si erano adoperati allocando due milioni e mezzo di proprie risorse risorse del proprio bilancio quindi anche con coraggio e intelligenza strategica avevano hanno comportato finanziamenti per circa 600 imprese equivalenti a un valore attorno ai 77 milioni di euro utilizzando risorse per circa un milione e due quindi l'effetto leva davvero significativo. Tre dei quattro confidi che avevano attivato queste sezioni hanno esaurito le loro risorse quindi lo strumento è andato è stato sfruttato compiutamente e completamente quando prima ci riferivamo alle modifiche sull'intervento queste hanno comportato un momentaneo stop alla possibilità di integrare queste risorse o di attivare nuove sezioni quindi non appena ed è una questione di ore di giorni formalizzeremo questa modifica che è già stata preannunciata a parte di voi sarà possibile riallocare risorse riattivare nuove sezioni aggiungerne a quelle già esistenti quindi su questo secondo noi c'è molto da fare questo strumento consente di arrivare ai massimali di copertura del fondo anche soprattutto dove non ci sono le sezioni regionali dove ci sono queste hanno comunque la priorità questi massimali poi intercettano le esigenze di accesso alla nostra provvista provvista un plafond da 500 milioni già tirati 220 milioni operativo da fine 2020 22 confidi convenzionati sull'intervento uno spazio di operatività residua per nuovi tiraggi poco sotto i 100 milioni i confidi che non sono attivi ne hanno altrettanti potenziali quindi insomma ci sono spazi è interessante vedere quello che poi i confidi hanno fatto hanno tirato provvista mediamente a cinque anni lo hanno fatto a livello regionale in una forma abbastanza distribuita sul territorio forse un po meno sul nord est hanno tirato a tasso fisso anche hanno ribaltato durate importanti mediamente verso sui cinque anni ma anche oltre le imprese servite sono circa 3 mila quindi non poche per un taglio contenuto attorno ai 56 mila 57 mila euro quindi insomma uno strumento molto vicino alle esigenze delle pmi per il fondo centrale l'attrazione di risorse comunitarie dicevamo prima circa un miliardo 350 circa 20 mila imprese che hanno potuto beneficiare di queste risorse attivate anche attraverso cdp con l'impegno del fondo del ministero di mcc anticipo che avremo una nuova iniziativa su cui stiamo negoziando gli ultimi aspetti che riguarderà i fondi investe euro lì le garanzie attivabili saranno di 2 miliardi 8 quindi comunque importi importanti ulteriori risorse da parte della della dell'europa che arriveranno all'italia il che è secondo me secondo noi insomma un motivo lusinghiero di orgoglio insomma ottimo ottimo ancora attenzione di più attenzione ai ai confidi no non spendere guarda pur fabbio ci hai parlato di un rapporto particolare con i confidi rapporto con cinque soggetti diversi cioè un rapporto complesso tanto per rimanere nel tema dei danzare nella complessità ma anche proficuo anche ottimo ecco qual è però la vera chance di questo tipo di rapporto cioè qual è il segreto cos'è che viene fuori allora grazie grazie per la domanda qui ho due risposte a questa domanda una risposta tecnica e una risposta invece più emotiva quella tecnica però è bella dura 45 minuti a 85 slide e racconta dettagliatamente tutte le strutturazioni le cartoralizzazioni che ci sono io te l'ho detto allora siccome quasi la una punto sulla seconda no la seconda è un ingrediente facilissimo che sono i valori qui riprendo riprendo una persona che si occupa di strategia d'azienda che mi piace molto che è simon sinek che dice che ci sono tre cerchi concentrici il che cosa il come il perché e quasi tutti si concentrano sul che cosa cioè qual è il prodotto che io offro in realtà quello che muove le scelte dei consumatori ma che muove anche l'aggregazione di chi opera all'interno di qualsiasi settore anche di diciamo attività che non sono legate alla sfera professionale sono i valori allora se c'è una condivisione dei valori di fondo se veramente si pensa che la finanza debba essere ancillare a qualche cosa se veramente si pensa che bisogna trovare lo strumento utile all'azienda e magari bisogna ascoltare lo diceva prima Nico prima di ficcare in tasca qualcuno scusate il termine non proprio professionale un finanziamento proviamo a ascoltare che cosa deve fare l'imprenditore devi fare una nuova linea produttiva hai un problema di una massa di crediti commerciali che ti rimane lì perché sono buonissimi ma te li pagano a 180 giorni e quindi hai bisogno di smobilizzare quei crediti bisogna pastire dall'ascolto gli strumenti ci sono è un contesto facile assolutamente no è mutevole assolutamente sì però se si tiene duro se c'è resilienza se c'è voglia di fare lo spazio c'è se c'è condivisione dei valori è una forza trainante tutti insieme perfetto ottimo grazie grazie anche questo travaso di filosofia e un'esimo diciamo nell'arida finanza ancor chiarissimo l'hai stimolato prima tu ottimo ottimo allora per te c'è una domanda che da un po' che mi ronzo in testa no? voi avete fatto della tecnologia la cifra no? ora c'è sempre stato un problema di fondo nel rapporto banca confidi perché il confidi raccoglie tutti i documenti per fare l'istruttoria di fido che deve fare la banca per quanto suo raccoglie tutti gli strumenti di fido che deve fare la visura camerale che è il catastale e tutto entrambi si potrebbe fare integrazione cioè tante volte a suo confidi ha creato un gruppo di studio si potrebbe utilizzare che la raccolta la fa uno solo e poi si integra il sistema al di là che Banca d'Italia dice e noi obbidiamo che ognuno deve fare la sua valutazione del merito creditizio ma alla base gli strumenti sono gli stessi non si potrebbero mettere a fattore comune? cioè tecnologicamente allora sì è una bellissima domanda parto un po' prima non è che le banche chiamiamole tradizionali abbandonino o stiano andando via da questo mercato perché sono matte eccetera semplicemente questo è un mercato che visti gli importi medi visti la tensione che c'è sui margini eccetera va gestito in modo super efficiente la super efficienza ha a che fare anche molto con la standardizzazione quindi la difficoltà di quello che dici è che per farlo in modo integrato le varie anime che vogliono integrarsi devono concedere diciamo devono concedere diciamo devono scegliere di aderire a standard di standardizzazione del partner non è facile è ancora più difficile se poi il partner non è uno ma sono un centinaio di confidi detto che quindi è auspicabile ma non è facile ti dico quello che stiamo facendo e quali sono i next steps allora il primo punto è che noi dividiamo il nostro processo di lavorazione di una pratica con i confidi in quattro fasi quindi non è solo lo scambio documentale o la raccolta di informazioni il primo è quello che noi chiamiamo il targeting io penso si possa fare moltissimo prima per mettere a fattore comune nell'ambito di ciò che è concesso valutazioni su affidabilità merito di credito esigenze di un portafoglio clienti barra soci in modo da poter facilitare la vita chi deve andare a scegliere quelli che pensiamo possono avere più bisogno e possono essere più meritevoli di ricevere un finanziamento la seconda cosa è l'onboarding portato il cliente è l'onboarding digitale io sono molto contento ogni volta quando alle volte abbiamo assistito le guardiamo noi un confidi che propone un prestito a Idexa fa un onboarding totalmente digitale del cliente collegandosi col cliente o col cliente vicino o in videochiamate con un nostro operatore in 40 minuti massimo carica una pratica una richiesta con importo prezzo durata e un buon livello di esito quindi a chi dice che l'esperienza del confidi deve rendersi digitale deve migliorare io dico che una banca tradizionale questo onboarding digitale non lo fa i 20 confidi che lavorano con noi danno ai loro clienti un'esperienza totalmente digitale e agli occhi del cliente non è Banca Idexa ma è i confidi e a noi va benissimo così perché alla fine la relazione ce l'hanno loro e sicuramente sono più vicini di noi a quel cliente in questo contesto stiamo anche pensando a forme di ulteriore brandizzazione perché al di là del fatto che il cliente lo fa con il collega del confidi possono esserci anche quello che si chiama il look and feel un white label una sorta di white label questa è una seconda area di integrazione la terza è lo scambio documentale qui abbiamo qualche tavolo di lavoro aperto ovviamente con i confidi che lavorano di più con noi benvenga se ci fosse a livello di associazione o comunque con un coordinamento lavorare per noi i confidi sono un partner strategico più ci integriamo meglio è per fare questo mestiere bisogna essere super efficienti e quindi se troviamo standard comuni le cose vanno in quella direzione ci piace pensare che negli scambi documentali nelle raccolte di informazioni e vengo alla quarta categoria la valutazione del merito di credito noi con la nostra un po' ossessione alla PSD2 che ha la raccolta degli ok dei clienti a avere accesso ai dati abbiamo anche fatto scattare qualche molla e sento qualche confidi che anche in modo autonomo oltre ad IEXA procedono a PSD2 quindi c'è una contaminazione molto positiva che vogliamo continuare a perseguire ottimo grazie grazie mi fa veramente mi fa veramente piacere mi fa Nico Dulcis in fundo Dulcis in fundo sai è come quando si prende il caffè al ristorante se è cattivo si ricorda che il ristorante è cattivo tu hai toccato un tema a me particolarmente caro proprio la prossimità più servizi più prossimità più consulenza ecco ma in pratica il tuo confini i confini lo stanno perseguendo questa strada che fanno? beh ci stiamo lavorando da un po' di tempo ed è frutto di un percorso perché questa roba non si improvvisa non si inventa stiamo lavorando a servizi di consulenza avanzata stiamo lavorando molto per la finanza agevolata stiamo rafforzando la rete commerciale investendo in maniera importante in nuove tecnologie ma apprezzo molto le riflessioni di Pipidori perché alla fine li dobbiamo attendere immaginare che ognuno faccia il suo piccolo pezzo di strada e immaginare che quello sia sufficiente per essere belli e apprezzati dalle imprese e dal mercato beh fa un grande errore di visione ogni tanto nel nostro mondo qualche peccatuccio di sopravvalutazione accade detto questo noi stiamo lavorando molto e lo si vede nei nostri bilanci sui temi che vi ho detto sulla formazione stiamo lavorando sull'ISG nominando all'interno del consiglio una figura di riferimento che peraltro è qua con uno staff che si occuperà di questa roba stiamo lavorando affinché la strumentazione di un confidi fortemente radicato nel territorio che ha 71.000 aziende ha un total capital ratio fra i più alti del paese siamo oltre il 60% che ha per fortuna utile patrimonio riesca a riportare al centro quella mission e quella visione che in questi due giorni è emersa quindi stiamo lavorando molto da questo punto di vista ma e voglio ringraziare per questo lavoro intanto i nostri tecnici a partire dal nostro amministratore delegato ma voglio ringraziare il mio consiglio d'amministrazione perché riusciamo a mettere in campo una visione che vorrei davvero trattare alla fine cioè quella di avere chiaro che da soli non bastiamo noi cominciamo un pezzo alla volta ad avere chiaro che per esempio fare investimenti in nuove tecnologie se li facciamo con una massa critica più importante possono portarci in una frontiera molto più evoluta stiamo pensando per esempio anche non siamo amanti delle fusioni to cure ma siamo amanti per esempio di percorsi condivisi con attori trasversali questa è la prossimità 2.0 altrimenti di che parliamo come lo facciamo altrimenti e lo facciamo per esempio con tutta una serie di riflessioni che ci porteranno in un percorso futuro ma di breve periodo a provare a trasformare da attore protagonista il mondo dei confidi perché sappiamo e ci sentiamo responsabili come tutti gli altri confidi di aver attraversato un mare in tempesta di avere ancora tante incertezze là fuori da capire e da governare ma il confide il nostro essere vicino alle imprese perché nasciamo con questa mission è e sarà la vera chiave di lettura che permetterà di sostenere le imprese di questo paese con ripeto non da soli con una visione collettiva che sarà la vera chiave di lettura che i prossimi anni ci regaleranno e chiudo con un messaggio positivo perché io non so onestamente se il nostro mondo ha raggiunto la maturità per fare queste riflessioni probabilmente ci arriveremo c'è ancora tanto in ballo ma so anche che abbiamo dimostrato una grandissima resistenza una grandissima capacità di stare vicini alle imprese e le donne e gli uomini del mondo dei confidi sono i veri protagonisti di un futuro che potrà farci raccogliere una sfida che sono convinto i confidi possono giocare grazie 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 sono d'accordo bene signori accomodatevi Lorenzo un secondo vieni vieni poi dopo la sorpresa finale la sorpresa come sei agile com'è andata vai com'è andata secondo te in questi due giorni abbiamo iniziato ieri e si parlava delle possibilità che si aprono che si potrebbero riaprire per i confidi diciamo che alla luce di questa discussione la parte ieri abbiamo parlato della parte più istituzionale con le tre che ho chiamato driver possibili intervento tornerò tra poco su questi poi c'è stata la sessione sugli ESG che tra l'altro anch'essa si combina un po' i temi che ho appena ascoltato anche dall'amministratore delegato di IDEXA ad esempio quando ha parlato di PSD2 diciamo avere accesso a quei dati un domani potrebbe applicare le metodologie dell'intelligenza artificiale anche a sistemi di rating che oggi girano con regressioni logistiche di un certo tipo un domani potrebbe anche essere che questi che l'intelligenza artificiale tra i tanti ambiti si possa applicare anche a questi dati e in questo caso le banche neonate più di recente tipo Illimiti o Banca ed Exa hanno un vantaggio su alcune banche che hanno sistemi gestionali un po' più datati perché l'utilizzo di dati che loro possiedono ed è anche un po' per questo che viene corteggiato il mondo dei confidi perché il nostro principale attu è avere le imprese e quindi chiaramente banche che sono senza sportelli hanno bisogno certamente di una gamba commerciale che possono essere confidi per avvicinare queste banche alle imprese e farle diventare clienti e avere i dati di queste imprese io vorrei chiudere con la cifra di questi due giorni secondo me l'ha data Nico l'ha data Nico dicendo i confidi hanno tanta strada da fare hanno tante sfide però grazie agli uomini alle donne dei confidi perché fino ad oggi hanno dimostrato di saper stare vicini alle imprese di fare credito e soprattutto di avere una resilienza così forte da attraversare tutte le crisi che ci sono state in questi anni sono d'accordo aggiungo soltanto che come diceva Ovidio le difficoltà aguzzano l'ingegno e infatti i confidi si sono certamente ingegnati nel trovare Ovidio era quel tuo zio di cui mi parlavi e quindi i confidi si sono ingegnati perché ieri qualcuno diceva non ha detto così il mio amico e collega comana ma diceva domandatelo a voi stessi un po' che innedianamente diceva non domandate agli altri cosa possono fare voi ma domandatelo cosa potete fare voi però ecco il confidi a me sembra che l'abbiano un po' già fatto questo perché i confidi maggiori hanno sfruttato gli spazi che sono stati via via crescenti offerti da piccoli in questo bricolage normativo che si è stratificato sulla vecchia legge quadra quindi hanno ampliato al servicing insomma tutti gli ambiti consulenza finanza agevolata e buon ultimo credito diretto i 112 potevano accusare poco l'ingegno perché quello solo possono fare quindi torno e concludo con cercherebbe di sfruttare certamente al meglio anche i futuri ambiti i futuri spazi normativi quello della riforma ne abbiamo parlato abbastanza diffusamente ieri l'avvocato Marchesano perdono e poi anche quello torno a dire non solo di una normativa che deve essere scritta ad hoc per noi ma anche dell'attuazione di una normativa che invece è già stata varata che è quella comunitaria di vicinanza prudenziale ottimo grazie a tutti ora prima di passare alla sorpresa finale vorrei ringraziare tutti i collaboratori che hanno lavorato Federica prego Beatrice i nostri ragazzi ci sono? Claudia Giulia Sabri Saber Kate Filippo Francesco Alessia Denise e qualcuno Davide che è in regia Daniele e Riccardo i nostri registi che non sono nostri dipendenti ma sono 18 anni che ci seguono in questa avventura prego ora godetemi lo spettacolo alle nostre spalle perché è per voi grazie a tutti voi grazie a loro perché grazie a loro che Confires esiste Confires 18 e ci vedremo tutti a Confires 19 grazie a tutti buon lavoro e a presto Davide grazie a tutti davvero ci piace pensare che stiamo facendo un ottimo lavoro e che lo abbiamo fatto insieme questa diciottesima edizione è il risultato di un lungo viaggio iniziato il 28 novembre del 2006 allora l'evento durava un solo giorno e ci ospitava l'aula magna della facoltà di economia dell'università di Firenze due anni dopo a partire dal 2008 abbiamo iniziato a contare le edizioni di quello che all'epoca si chiamava convegno nazionale e così è rimasto fino alla numero 6 del 2012 quando ci siamo presi un po' più di tempo per stare insieme e lo abbiamo fatto introducendo un cocktail di benvenuto la sera prima del convegno con il brindisi inizia anche la nostra storia fotografica e chi ci segue da più tempo di certo si riconoscerà tra queste foto foto di persone che ogni anno si ritrovano con la voglia di incontrarsi e confrontarsi foto di vecchi amici e colleghi ma anche nuovi volti e nuove relazioni nel 2013 alla sua settima edizione l'evento cambia nome e diventa quello che tutti noi conosciamo Confires l'evento nazionale dei confidi oltre al nome arrivano altre novità la prima diretta streaming e la prima postazione social crescono i numeri dei partecipanti e crescono i temi di confronto per questo l'anno successivo decidiamo di estendere la durata del convegno al pomeriggio precedente erano i tempi delle prime ispezioni di Banca d'Italia e tutti volevamo sapere cos'era successo a chi era stato oggetto di ispezione tanto che il numero di iscritti ci colse di sorpresa ma per fortuna l'aula magna dell'università poteva ancora accoglierci tutti arrivati all'undicesima edizione del 2017 il cocktail di benvenuto diventa una cena nella bellissima cornice dell'hotel St. Regis animati dalla voglia di coltivare le buone relazioni anche al di fuori dei tavoli di lavoro del convegno ma la vera novità arriva con la dodicesima edizione e la scelta di lasciare l'università per spostare tutto convegno e cena al Grand Hotel Baglioni che ci ospiterà fino al 2023 il 2020 è stato quello della Digital Edition di novembre quando ormai era evidente che non ci saremmo potuti incontrare di persona a quel punto avevamo ormai tutti imparato a destreggiarci con l'online e anche Confires fu realizzato a distanza felici di non aver saltato l'appuntamento ma con un po' di malinconia nel vedersi attraverso uno schermo vi saluto a tutti spero di vedervi presto e l'anno prossimo fisicamente per gli abbracci i baci e il caffè buon lavoro a tutti a dimostrazione di quanto Confires fosse diventato un luogo di incontro identitario per la comunità dei confidi a settembre 2021 con coraggio organizziamo la quindicesima edizione l'edizione con le mascherine e con il Green Pass e nonostante le raccomandazioni di seguire le regole imposte dal Covid non c'era modo di fermare quegli abbracci tanta era la voglia di rivedersi bentornati a casa la diciassettesima edizione di Confires del 2023 ha visto l'aggiunta nel logo della dicitura La Casa dei Confidi ce lo siamo sempre detti lo abbiamo sempre pensato ma volevamo renderlo ufficiale l'edizione dell'anno scorso è anche stata l'ultima al Grand Hotel Baglioni siamo diventati troppi troppi iscritti al convegno troppe persone a cena semplicemente non ci stavamo più la necessità organizzativa di maggior spazio è diventata anche l'occasione per rinnovarci ulteriormente alzare il livello dell'evento ed esplorare nuove relazioni la Casa dei Confidi si è spostata alla Casa delle Imprese Confires compie 18 anni ed è in questo modo che ha festeggiato la Casa dei Confidi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.